Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati sulla Sky Odyssey! Allora ragazzi, rispetto all'ultima volta, io ho lasciato girare il mondo un bel po' di tempo da solo perché ieri sono stato a Milano tutto il giorno a trovare dei miei amici che non vedevo praticamente da Natale e con l'occasione, visto che stavo ancora cercando di caricare l'ultimo video di Terraria che ho pubblicato ieri avevo il pc acceso e ho detto ma io non ci sarò, lui deve stare acceso, tanto vale che mentre che è acceso faccia qualcosa di utile e quindi ho aperto il pacchetto e l'ho lasciato girare praticamente dalle 10 e mezza fino a mezzanotte e mezza quindi un bel po' di ore lui ha girato e ha prodotto roba ora vi faccio vedere i risultati perché comunque un bel po' di robetta l'ha prodotta qui ci sono un bel po' di blank slate per poter appunto fare poi le tanniche non sono tantissime in realtà, ne avrebbe prodotte molte di più ma qual è il problema? Che è finito il sangue nel mio network e quindi finendo il sangue nel network non sono più stati uccisi i mob qua dentro e di conseguenza piano piano il nostro altare si è svuotato e quindi è finita la produzione quindi una volta che sono tornato a casa ieri notte mi sono ritrovato con il personaggio completamente ubriaco dalla nausea, dall'effetto malefico del fatto che avevo finito l'essenza nel circuito di essence appunto e adesso sto cercando di ripristinarla un po' mettendo il blood orb nell'altare però comunque un po' di blank slate le abbiamo ragazzi adesso non so, non credo siano sufficienti per fare il tier massimo della tank della blood magic ma dopo ci proviamo e vediamo a che punto arriviamo un'altra cosa che quindi è andata avanti è stata la nostra farm del wither perché rispetto all'ultima volta ragazzi ho impostato in modo che praticamente le teste arrivino direttamente qui non arrivano in maniera copiosa, vedete ne è appena arrivata una arrivano direttamente dalla farm della wood però questo vuol dire che ogni tanto qui un wither spawna e viene ucciso ora qua dentro c'è davvero un sacco di roba perché comunque anche io gli avevo lasciato manualmente un bel po' di teste da utilizzare il problema ragazzi è che in tutti questi drop fate conto che ogni nether star è un wither ucciso quindi se mettiamo in ordine capite che ne abbiamo ammazzati un bel po' di questi wither ma di game over crate non ce n'è manco l'ombra il che mi fa pensare ragazzi non vorrei che non fosse solo un problema della wood ma fosse un problema generalizzato quello di ottenere il drop di quelle crate quindi non lo so io questa la lascio comunque girare perché comunque ci ha dato delle cose interessanti quasi uno stack di loot crate epiche e altre 8 leggendarie oltre vabbè a tutta una serie di altri oggettini che possiamo tranquillamente bruciare per ottenere mc l'esperienza che viene prodotta dall'uccisione del wither viene raccolta dall'absorption hopper prima di andare via ho fatto un piccolo conduit qua che mi va a mettere anche questa esperienza qua dentro così adesso abbiamo un po' di livelli in più da poter immolare per le nostre quest l'altra cosa molto interessante che è andata avanti ragazzi per conto suo è stata chiaramente la produzione di yu yu matter e come potete vedere è tutto pieno ragazzi qui è tutto pieno perché perché semplicemente abbiamo completato la quest incredibile ma vero mille secchielli di yu yu matter che sembravano una cosa impossibile inarrivabile sono arrivati e sono arrivati anche molto in fretta devo dire oltretutto facendo questa quest ne abbiamo anche completate delle altre perché comunque lasciando girare il pack abbiamo completato le quest ripetibili per il refined canola oil per il plant oil e di nuovo quella del liquefated coal quindi abbiamo anche un bel po' di soldini da andare a recuperare dalle nostre quest vediamo un po' di recuperarle ok 88 26 11 75 niente male davvero e in più abbiamo il donkey trophy che è il trofeo che ci viene dato appunto per aver completato la quest della yu yu matter questo è preziosissimo così come quello del chicken che avevamo ottenuto facendo la final star io lo vado a mettere nell'applied energistic e lo tireremo fuori una volta che li avremo tutti per poter aprire il portale che ci porterà nella dimensione x bene ragazzi e quindi wow non me lo aspettavo devo essere sincero di riuscire a ottenere tutte queste cosine tra l'altro queste essendo ripetibili me le ha svuotate e adesso si stanno di nuovo riempiendo però quest della yu yu matter è rimasta piena è rimasta piena perché essendo non ripetibile in effetti non ha più senso già che ci sono però e c'è anche una quest ripetibile per la yu yu matter io a questo punto andrei a settare quella quindi vediamo un po' yu yu matter no forse mi confondo non c'era una quest ripetibile fatemi andare a controllare ah no non c'era una quest ripetibile e quindi ragazzi non me ne faccio più niente della yu yu matter oddio la potrei usare effettivamente per per farci qualcosa però per il momento disfiamo questo task screen e andiamo a prenderci un black hole tank da mettere laggiù ok così adesso storiamo la nostra yu yu matter qua giù e ne stiamo già producendo parecchia ok ragazzi questi sono stati grosso modo gli sviluppi del di questo farm lasciando girare il mondo in automatico vediamo un po' con l'energia come siamo messi la nostra batteria si è riempita per lo 0,069 per cento quindi c'è ancora un sacco di capacità per la nostra batteria e dobbiamo però produrre anche un sacco di monete io ho visto che ne abbiamo adesso 359 mila no non volevo aprire lo shop volevo andarle a investire vediamo un po' a che punto arriviamo al 13 per cento ero al 9 se ricordo bene quindi un po' di progresso l'ho fatto ma siamo ancora molto 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 lontani dall'obiettivo così come sono molto molto lontano dall'obiettivo anche per le esperienze perché 1508 livelli non sono al momento alla mia portata dovrei averne laggiù 200 ma siccome l'esperienza in minecraft funziona in maniera esponenziale arrivare a 1508 credo che non sarà facile allora proviamo a darglieli vediamo a che punto siamo eh all'otto per cento va bene ci sarà comunque ancora un sacco di lavoro da fare ragazzi ora però per prima cosa visto che abbiamo tutte queste blank slate vorrei provare a vedere dove andiamo a finire con le nostre tank quindi mi prendo un bel po' di questa robetta prendiamone due file diciamo che per il momento sono sufficienti e andiamo a craftarci quindi quello di cui abbiamo bisogno perfetto ragazzi e quindi abbiamo fatto un bel po' di blank rune se erano due file di blank slate adesso abbiamo una fila di blank rune e queste qua le possiamo andare appunto a trasformare nelle nostre tank quindi blood tank di tier 1 e vediamo quante ne riesco a fare ok chiaramente adesso abbiamo finito le blood stone tile quindi non ne posso fare altre però qua ne abbiamo già uno stack allora serve per tutti i livelli vero la blood stone? sì quindi devo per forza craftare anche questa ragazzi e vediamo un po' ho soltanto 5 di queste che però dovrebbero darcene ogni crafting 16 vero? ok quindi abbiamo di nuovo uno stack intero va bene proviamo a vedere quanti tier 2 riusciamo a fare 34 ok quindi quanti tier 3? 12 si è buggato qualcosa? ah no ho finito semplicemente le blank rune ragazzi ok però facciamo un po' di conti il tier massimo che è quello che ci viene richiesto dalla quest se non ricordo male eccola qua no ci chiede il tier 10 ok il tier 10 non è tragico perché in realtà c'è fino al tier 16 ma a noi ci viene richiesto solo il tier 10 quindi è una passeggiata tra virgolette facciamo due conti rapidi così vi dico quante ne dobbiamo avere allora per la tier 10 serviranno 2 tier 9 serviranno 4 tier 8 quindi serviranno 8 tier 7 quindi serviranno 16 tier 6 quindi serviranno 32 tier 5 quindi serviranno 64 tier 4 e quindi serviranno 128 tier 3 io adesso ops io adesso dicevo ne ho 12 wow ok ci sarà parecchio lavoro da fare qua giù cosa avevo? avevo delle tier 2 va bene iniziamo a recuperare anche queste ah qui qualche rune ce l'avevo ok quindi per ora buttiamo dentro alla nostra cesta qui tutte queste cosine e vediamo un po' quanta essenza ho nel network 123.000 è un po' poca lascio che si riempia ancora un po' il blood orb e andiamo a fare altro intanto ragazzi allora già che ci siamo metto via queste ceste tanto non mi servono invece queste qua vorrei provare ad aprirle per vedere se ci troviamo qualcosa di utile della clay della clay fantastico harvest goddess band della project e ok questo non lo conosco un weaver core e un altro pet inutile vabbè niente di che in realtà sono epiche ma non mi sembrano così epiche essere sinceri ragazzi allora questo lo mettiamo dentro tutto quello che si può bruciare lo bruciamo ok quindi anche questo questo anello della project e ha un valore dmc fantastico vediamo se era craftabile come si craftava ok era anche molto semplice da fare immagino serva per far crescere le cose ok ragazzi sono venuto ad alimentare ancora un po' in maniera manuale la nostra farm del weaver perché se è vero che lui comunque sta funzionando però se può funzionare un pochino più in fretta preferisco perché voglio togliermi assolutamente sto dubbio sulle game over crate ok finalmente riesco a volare come si deve maledetto lui mi spinge via quando esplode e mi fa anche un po' di problemi al volo a quanto pare ok mettiamo tutte queste belle testoline così lui continuerà a spawnare e a morire in malo modo e così prendiamo anche un bel po' di esperienza ragazzi vabbè per il momento lascio qua tutte le varie nether star così facciamo anche il conto di quanti effettivamente ne ho uccisi però tutti questi altri drop tutti questi altri oggetti in effetti li posso anche togliere da qua ok lasciamolo morire anche perché fa un gran casino quindi allontaniamoci da quella zona mettiamo qua dentro tutti i vari oggetti che abbiamo ottenuto e buon cos'altro devo mettere via vediamo un po' ok gli infinity booster e lo zolfo direi che li possiamo tranquillamente andare a bruciare qua dentro l'altra cosa ragazzi che mi piacerebbe fare con voi oggi è fare uno dei crafting necessari per arrivare appunto al completamento dell'ultima quest e per farlo ci serviva appunto il tardis generator quindi adesso che ne abbiamo ben due da poter utilizzare non dovrebbe essere così complicato andare a fare questo crafting ve lo faccio vedere non da qua però dal libro di quest ovvero quello per la no you matter matter è un gioco di parole che è intraducibile purtroppo dall'inglese perché matter significa sia materia ma anche valore quindi la no you matter praticamente significa no tu vali perché si ottiene dalla you matter quindi tu vali e la risposta appunto è no tu vali giochi di parole inglesi che vabbè da noi si perdono e che però sinceramente non sono neanche così troppo divertenti mettiamola così allora per poter fare questo crafting come potete vedere si parte dal tardis generator con la lava all'interno e serve la you matter e la no matter per fare queste due cose andiamo a vedere come si fanno la no matter si fa con la you matter e la green matter che possiamo prendere tranquillamente con gli mc ma questa you matter a sua volta si può ottenere eccola qua nell'assembling machine combinando questa you matter della industrial craft solida non la conoscevo non avevo idea che si potesse fare anche solida e la you matter della tech reborn per cui la volta scorsa ne avevo messi da parte un po' di esemplari quindi si tratta semplicemente di andarsi a costruire questa assembling machine che non ho idea di come si faccia e ho un po' paura che essendo di quelle maledette mod sia anche parecchio complicata da fare allora vediamo un po' ah ok come non detto ragazzi ce la dava una quest power expertise quindi in teoria ce l'abbiamo nell'applied energistic andiamo a controllare ah ma è magnifico tutto ciò ragazzi ce l'avevo già e non lo sapevo oh per una volta una cosa facile di queste mod ok quindi combiniamola qui così prende subito l'energia dal flux point andiamo a mettergli dentro la nostra you matter il problema però è che io adesso ho questa you matter devo anche capire come ottenere quella solida della industrial craft per ora metto queste qui e andiamo a vedere invece you matter questa qua solida ah si fa anche molto semplicemente nel compressor va bene lo accetto molto molto semplice questo processo incredibilmente allora mi prendo una celletta oddio forse me ne servirà più di una in realtà ora che ci penso di queste materie ne prendo uno stack di queste cellette le vado a riempire tanto adesso abbiamo la nostra tank con la you you matter vediamo se riesco a farle già tutte 64 sarebbe fantastico tutto ciò ok mi sa che ce la faccio a farle tutte perfetto quindi queste nel compressor che dovrebbe essere questo qua ok sta lavorando la acceleriamo anche un bel po' così le facciamo il più in fretta possibile intanto che si fa tutto lo stack inizio a prendermene un po' di esemplari così testiamo subito questo crafting qui ok funziona sta funzionando anche abbastanza bene acceleriamo anche questo a questo punto e buon ragazzi si tratta soltanto di aspettare che abbia finito quindi questo procedimento prendiamone ancora un po' intanto la buttiamo di qua ok e abbiamo la nostra you matter perfetto non so quanta ne servisse ragazzi quindi io nel dubbio oddio tanto finirò la you you matter della tech reborn e quindi questi 28 esemplari li abbiamo spero che saranno più che sufficienti per fare tutto ora quindi si tratta di prendere della lava magari prendiamo una tank ok prendiamo un link e quindi con un semplicissimo sistemino come ho fatto già sotto per alimentare i generatori del rainbow generator gli andiamo a dare la lava al nostro sistemino allora conduit questi qua degli item perfetto e quindi devo però fare un input liquido quindi devo andare a togliere un attimo il sink che non mi ricordo dove l'ho messo da questo parte qua eccolo perfetto oddio potrei anche semplicemente disabilitarlo facciamo così mettiamolo in never active così intanto lui adesso consumerà tutta l'acqua che ha al suo interno qui mettiamo la nostra tank la mettiamo in output perfetto e poi semplicemente qua dobbiamo dirgli di prendere e buttare i secchielli di lava ah non ho preso un campione di secchiello di lava da far imparare al nostro link ma lo rimediamo abbastanza in fretta ragazzi ok ce l'abbiamo lo buttiamo dentro qui mettiamo semplicemente un conduit e qui gli diciamo always active di estrarre qui sul marrone magari facciamo l'inserimento di qua dovrebbe entrare quindi il verde e facciamo estrarre in marrone in questo modo qua vedete entrano i secchi di lava si svuotano e i secchi vuoti vengono ripresi dal conduit per essere bruciati qua dentro voilà un sistema molto molto pulito e che funziona davvero sempre ora l'unico dubbio è fin tanto che qua c'è acqua lui non mi farà entrare la lava immagino e abbiamo un problema però perché sembra che questi 600 lui non intenda sdropparli ora se io smonto provvisoriamente il tardis generator che succede? si perderà quell'acqua? facciamo una piccola prova ragazzi ho tolto un blocco quindi questo non dovrebbe essere più un macchinario valido e invece sembra che continui a funzionare ok vabbè forse devo togliere il controller perché si resetti tutto quindi facciamo così togliamo il controller continuare a essere tutto blu il che non so se è un bene oppure no forse devo proprio smontare il nostro input forse faccio prima allora facciamo questo tentativo rompiamo questo dark matter block anzi forse riesco a rompere direttamente lui sì perfetto quindi se ora io questo lo ripiazzo c'è l'acqua dentro? no perfetto sta entrando la lava ok va benissimo l'abbiamo risolta ancora abbastanza facilmente rimettiamo quindi il controller adesso ci dirà che missing fluid input ma no gliel'ho messo sta funzionando è lì pronto? questo potrebbe essere un problema ragazzi allora togliamo un momentino il nostro conduit va? rompiamo di nuovo questo così si svuota andiamo a togliere di nuovo il controller missing structure ok infatti non lo vede proprio quindi smontiamo il controller anzi il controller lo ripiazziamo non piazziamo solo la blueprint all'interno ok missing structure perfetto proviamo a rimetterlo adesso teoricamente è tutto reimpostato quindi se metto questo missing fluid input come mai ragazzi? mi devo craftare un altro di questi? non gli piace più questo qua? boh non lo so ragazzi c'è qualcosa che non gli piace con questo fluid input allora questo affare si craftava in questo modo qui quindi in teoria vediamo un po' ok abbiamo già tutto tranne però chiaramente perché quello non ne abbiamo d'avanzo il nostro caotic core aiuto dove sto andando è impazzito il mio personaggio ragazzi è preso a volare a caso gli devo per forza craftare un caotic core vediamo se è colpa del fatto che questo è già stato utilizzato mi sembrerebbe molto strana sta cosa però non vorrei dover ricostruire un nuovo intero TARDIS generator per ovviare a questo problema sarebbe tragica perfetto ragazzi mi sono fatto quindi un altro di questi maledetti cosi e vediamo se adesso con questo qua che è nuovo mai stato usato appena finito di craftare il nostro sistema funziona di nuovo oppure abbiamo un problema allora ho messo il nostro fluid input continuo a dirmi missing fluid input ragazzi e questo non va affatto bene quindi ne ho craftato uno nuovo per niente accidenti non era questo il suo problema il guaio è che non so come ovviare a questa cosa ragazzi vabbè proviamo a vedere se mi fa fare comunque il crafting allora per fare il crafting della nostra you matter abbiamo detto andiamo a vedere you matter you matter you matter you matter anzi no la you matter ce l'abbiamo già a noi serve la no you matter abbiamo detto ci serviva la no matter e la no matter sono 8 you matter più una green matter dentro il nostro tardis generator quindi prendiamo una green matter un bel po' di mc prendiamo 8 di questi cosini ok e in teoria credo di doverli caricare dal nostro item input a questo punto quindi prenderei un conduit prenderei una chest e proverei a metterglielo in questo modo qua intanto credo che ci siano degli zombie all'interno della nostra struttura perché li sento lamentarsi ragazzi allora mettiamo queste cosine qua dentro attacchiamo il conduit e vediamo se è sufficiente questa cosa qua per farlo funzionare ok gli oggetti sono usciti dalla chest quindi sono dentro il mio il mio tardis generator e quindi se io qua attacco un altro di questi conduit con un'altra chest dovrei avere anche l'output proviamo un po' ragazzi siccome è un generatore particolare nuovo di questo pacchetto non ho la più pallida idea di come funzioni qui dentro non sta al momento entrando niente e quindi non lo so ragazzi sono molto molto confuso non c'è abbastanza energia ah ok non c'è abbastanza energia quindi magari togliamo questo visto che si sta ciucciando tutta l'energia che produce il mio tardis generator e vediamo se è così invece riesce a funzionare ah giustamente ragazzi se non levo anche il beast coin miner l'energia continuerà a uscire perché verrà ciucciata tutta da questo oggetto qua quindi togliamo anche lui forza mamma mia quanto sei duro ok e adesso dovrebbe ritornare a produrre il nostro generatore dico bene sembrerebbe di no sembrerebbe proprio di no quindi non so ragazzi non brucia la lava a questo punto ok ragazzi forse l'ho risolta l'ho risolta non pienamente al 100% ma dovrei aver risolto almeno il crafting lui continua a non produrre energia però posso comunque dargli energia grazie a questo point prendendo l'energia che abbiamo immagazzinato fino adesso dentro la batteria in questo modo qua avendo messo io gli oggetti lui dovrebbe star processando oh sì perfetto in questo modo a breve nella c... a breve insomma per modo di dire siamo al 24% quindi ci vorrà un po' di tempo non credo di poterlo accelerare questo processo mi sa proprio di no però quando avrà finito in teoria nella chest qui di output dovremmo trovare la nostra materia importante non so cosa abbia visto purtroppo evidentemente rompere quel quel fluid input per togliere l'acqua non è stata la migliore delle idee per fortuna sembra che il crafting funzioni mi dispiace solo che non stia più producendo energia mi viene in mente un altro dubbio che effettivamente mi sta venendo è che forse lui la lava non la bruci proprio potrebbe essere che l'acqua sia un carburante valido per il Tardis Generator ma la lava no non lo so ragazzi adesso intanto finiamo il crafting così completiamo un'altra delle quest finali e almeno andiamo avanti anche con la nostra avventura intanto che questo fa andiamo a vedere i nostri wither ne avremo uccisi sicuramente un altro po' però non so se ci saranno oh si ce ne sono due allora funziona questa cosa ragazzi iniziavo a disperare temevo che non ci fossero proprio fossero completamente buggate va bene abbiamo due di queste game over crate spendibili ragazzi che potrebbero farci svoltare alcune cose complicate della nostra avventura oppure potrebbero rompere completamente il pacchetto non lo escludo le andrei subito ad aprire a questo punto una Red Morning Star ok questo sinceramente non mi interessava anche perché credo di averla già craftata se non sbaglio e infatti l'avevo già craftata va bene quindi la prima è andata a vuoto vediamo la seconda Draconic Leggings ok dovrò sicuramente trovarne delle altre di queste crate perché le prime non sono state decisamente molto fortunate mi hanno dato oggetti che in realtà sono più che accessibili anzi li ho già craftati da un sacco di tempo quindi non è neanche così OP alla fine andiamo a vedere non mi ricordo quali sono i contenuti possibili vedete ci sono degli oggetti che in effetti già ho e che quindi chi se ne frega di riuscire a riottenere c'è sempre una possibilità di trovare la clay maledetta però ecco il Creative Barrel piuttosto che Creative Conversion Kit o tutti questi Capacitor Bank creativi sarebbero davvero delle svolte molto molto importanti però vabbè non ho avuto fortuna in questo caso ragazzi andiamo a vedere a che punto è il nostro crafting invece ok mi dice missing input item quindi potrebbe voler dire che ha finito vediamo un po' oh sì ragazzi ha finito quindi abbiamo la nostra la nostra no matter aspettate mi stavo sbagliando mi stavo confondendo tantissimo questo era il passaggio preliminare per fare la no you matter ho bisogno di 4 no matter e di 4 you matter ok quindi in realtà ho sbagliato vabbè devo quindi farmare un altro bel po' di materiali allora mettiamo la nostra you matter qui e vado a prendermi un altro po' di green matter e gli faccio fare di nuovo i crafting me ne serviranno altre 3 di queste materie quindi mettiamo tutto dentro e a questo punto mi tocca aspettare oddio quante ne ho messe di queste perché se ne ha consumate già 8 per farne uno mi serviranno altri 4 almeno altre 4 di queste you matter ok ne ho fatte solo 5 ma dovrebbero essere sufficienti per il crafting se non ricordo male almeno per questo qua poi intanto che lui fa gli altri processi tanto è comunque abbastanza lento io andrei a farmi di nuovo un po' di you matter solida della industrial craft ok le mettiamo qui nel compressor ah ma qua ne avevo già di fatte ragazzi non mi ricordavo mica ero convinto di averlo già messo tutto lo stack boh allora facciamo così e abbiamo già risolto diamo la massima accelerazione e queste cellette boh alla fine le svuoto bene ragazzi dovremmo in realtà già avere tutto il necessario a questo punto quindi io aspetto soltanto che finisca i vari processi della no matter così poi andiamo a completare tutto quanto perfetto ragazzi quindi ha finito anche di fare l'ultima dovremmo trovarla quindi nella nostra chest eccola qua e quindi adesso queste quattro qui combinate con quattro di queste materie dovrebbero finalmente darci il nostro prodotto ok ne ho anche due d'avanzo quindi me le riprendo non so quanto effettivamente ciuccerà come energia controlliamo un secondo il processo eh dai è già al 7% quindi non è neanche così lento ragazzi aspetto che finisca e poi ci salutiamo a questo punto perché direi che con l'ottenimento di questa materia preziosissima posso già ritenermi soddisfatto per oggi abbiamo anche già ottenuto un paio di game over crate quindi sono contentissimo anche di questa cosa chissà se per caso ne fosse arrivata qualcun'altra ne dubito eh visto il ratio con cui arrivano queste chest particolari eh infatti non ce ne sono altre vabbè pazienza ragazzi oh ecco qui ragazzi la nostra no you matter no tu sei importante e sei davvero molto importante come oggetto perché ci fai completare un'altra di queste quest che ci dà il trofeo del villaggero quindi un altro tassello da mettere via per il nostro portale della dimensione x ok anche questo lo butto qua dentro ah lei non ha un valore dmc la posso tranquillamente buttare qua dentro assieme a queste altre cosine e mi dispiace essermi craftato un altro di questi vacuum fluid input che a quanto pare in realtà non serviva minimamente e niente ragazzi direi che per questo video è tutto io adesso mi metto di nuovo ad armeggiare un po' con il tardis generator per vedere se riesco a farlo di nuovo partire questo secondo se no pazienza mi toccherà accontentarmi di uno solo in funzione alla prossima ciao ciao ciao